un saluto ed un benvenuto a tutti gli amici di newsgeek.it eccoci un'altra puntata con un phablet di casa Mediacom come ben sapete io apprezzo veramente molto i device di questa casa ed andiamo a parlare di questo phonepad 2S650 avevamo già avuto precedentemente il phonepad 2S550 già un ottimo terminale trovate la video recensione sempre sul nostro canale e procediamo con l'unboxing troviamo di serie nella scatola questa cover molto carina che appesantisce leggermente il telefono ovviamente avete qui degli sportelletti dove potete inserire a vostro piacimento non so dei foglietti biglietti di visita tutto ciò che volete e andiamo a togliere il telefono dal dalla sua cover mettiamo da parte la cover mettiamo da parte anche il telefono lo riavviamo in modo che possiate valutare i tempi di accensione togliamo il resto della confezione e qui dentro c'era la batteria che io ho già inserito dentro al telefono abbiamo qui il caricabatterie il qui il cavo usb micro usb di una buona fattura ed infine le cuffie in ear cuffie di questo mediacom che sono di un'ottima qualità avevo già provate altre cuffie di questa casa e non hanno niente di meno rispetto alle cuffie dei vari top di gamma concentriamoci ora sul telefono vi do un po di specifiche tecniche nel frattempo il processore che monta questo device questo colosso è un mtk 6589 quad core a 7 con una frequenza di clock da ben 1.2 gigahertz alcuni potranno dire è poco beh il telefono a dirvi la verità è fluido andiamo nelle impostazioni intanto e vediamo il la versione di android 4.2.1 non si sa momentaneamente se verrà aggiornato ad una 4.3 vi do qualche consiglio per velocizzare il telefono portiamo tutte le animazioni a 0,5 perfetto come potete vedere ora il telefono va decisamente meglio andiamo a vedere un po la parte internet troviamo preinstallato di serie firefox cerchiamo news geek tanto potete vedere anche la tastiera che forse è un po un po sproporzionata sicuramente perché su ben 6,5 pollici una tastiera di queste dimensioni è veramente grande oltre il fatto che abbiamo non abbiamo i numeri come sulle classiche tastiere di android insomma una cosa un po gradevole forse un piccolo problema ma sicuramente speriamo in un miglioramento da parte di media com ecco qui il nostro sito molto fluido rapido nel caricamento assolutamente se avete alcun problema andiamo su the verge ecco qua selezioniamo ed attendiamo il rendering della pagina richiediamo la versione desktop intanto continuiamo a parlare dello schermo abbiamo un 6,5 pollici come ho detto prima lcd ips da 1920x1080p quindi una risoluzione full hd veramente un ottimo device per continuare abbiamo qui i doppi altoparlanti qui il pennino qui l'entrata per micro usb qui la fotocamera da ben 13 megapixel ed un piccolo flash led flash led posto sul sulla parte bassa della fotocamera il jack da 3,5 bilanciere per il volume e pulsante per blocco e sblocco insomma il telefono dà una sensazione la prima volta che si prova soprattutto di compattezza è veramente compatto e non dà l'idea di scricchioli e tutte queste cose dimensioni 172,9 x 93 x 9,5 mm di spessore peso 250 grammi andiamo sul full sight come dicevo prima ovviamente vi ricordo che the verge è veramente un sito pesante e il telefono come potete vedere non ha grossi problemi a renderizzare la pagina andiamo nella fotocamera mettiamo qui il galaxy s2 l'ormai famoso galaxy s2 vittima di tutte le modding di sebi vediamo lo scatto abbastanza veloce ovviamente qui possibilità di attivare hdr tutta una serie di effetti e di personalizzazioni qui le impostazioni che sono le più varie la fotocamera fotocamera che alla risoluzione di 13 di 12 megapixel può essere visualizzata solamente in formato 4 terzi riducendo invece i megapixel a 6 abbiamo già una visione a ben 16,9 quindi schermo intero ed è già un'altra cosa forse le foto perdono un po' di qualità ma è sempre meglio vedere una foto a schermo intero come potete vedere qui quindi un po' lento questo rendering ma forse ho capito il perché con hdr attivato fa un po' fatica su questa cosa ma è una cosa su cui si può passare sopra secondo me insomma delle ottime impressioni la foto che avete visto è stata scattata dal mio gentilissimo padre mentre stavo mangiando non si può avere un attimo di pace e batteria dicevo da 3100 mAh che regge veramente molto bene andiamo a vedere i consumi fino ad ora attiviamo la percentuale della batteria l'ho utilizzato per circa 3 ore a partire dalle 5 e devo dire che si comporta molto bene il telefono che cosa consuma abbastanza? beh anzitutto lo schermo ma consuma molto anche la ricerca della rete ora ho tolto le mie due sim dal telefono perché avevo un urgente bisogno su un altro insomma come telefono è veramente buono io lo ripeto resto sempre molto soddisfatto anche il navigatore il GPS prende bene non ha alcun problema andiamo sul navigatore accettiamo cerchiamo Roma vedete? riesce veramente a localizzare in un attimo non ha alcun problema troviamo preinstallata anche l'applicazione della torcia molto comoda molto utile andiamo nella parte telefonica guardate i tasti come sono grandi c'è la ricerca nella rubrica soprattutto abbiamo un buon audio in capsula come potete vedere la capsula è molto molto grande anche lo speaker gli due speaker anzi si danno la possibilità di sentire veramente molto bene quindi se siete le persone che mettono un telefono in borsa in un borsello e temete che il telefono stando a contatto con delle superfici potrebbe perdere suono state tranquillo che con questo telefono non succederà assolutamente risblocchiamo andiamo a vedere la mail la gmail ce l'avevamo qui eccola qui ovviamente è veramente un piacere vedere delle mail dei filmati dei video anche su youtube su uno schermo del genere andiamo a cercare questo video vedete anche molto veloce non questo iron man giriamo il device intendiamo che finisca di caricare la simpaticissima pubblicità intanto abbiamo qui leo messi saltiamo e vediamo il video ovviamente il trailer sarà in lingua spagnola abbassiamo un po' per farvi vedere inizialmente la qualità del video è veramente un'ottima qualità su questo display full hd ripeto è un piacere vedere dei filmati ed ora alziamo il il volume veramente l'audio è molto potente molto performante questo telefono resto sempre stupito da questi media com veramente molto compatti danno una buona impressione poi su questo telefono abbiamo anche il pennino non c'è un risveglio del telefono possiamo sbloccarlo usare per moltissime cose non c'è un'anteprima insomma sono cose che avevamo visto sul note il pennino è abbastanza pesante ora ve lo metto a confronto con quello di un note 2 così vedete un po' le differenze soprattutto se dovete scegliere tra questi due device qui abbiamo il pennino ovviamente ha molte più funzionalità su note 2 note 2 che ormai arriva allo stesso prezzo di questo telefono e se riuscirò farò un video confronto usando il pennino non riscontriamo alcuna problematica non è disponibile non sono usabili i tasti con il pennino ma insomma questo non è un grosso problema prezzo consigliato al pubblico 399 euro ma per natale sicuramente troverete qualcosa in meno volete comprare un telefono molto grande e non spendere tantissimo beh ecco il telefono che fa per voi android quad core lag pochissimi ma insomma per i soldi che richiedono sono veramente ottimi prende bene ottime cuffie durata della batteria ma cosa volete di più per questo natale un saluto a tutti gli amici di newsgeek.it qui sebi ciao